Sono stato invitato a un tango illegal, prima però imparo qualche passo su YouTube, tanto con la rete veloce è un attimo. In realtà non c'è niente di illegale, queste persone usano internet per organizzare al volo milonghe un po' dove capita. Al mio 3 casche! Nel tango argentino non c'è il casche. Infatti. È bello che la passione per un ballo così antico rinasca in un modo così nuovo. Con Tim hai internet alla velocità della luce e in regalo la navigazione per vedere i video, anche su YouTube. Vieni nei negozi Tim. Grazie.